Cari amici ed amici, faccio questo programma radio solamente per dirvi la mia costernazione, circa una notizia che ho saputo ieri, 12 aprile, martedì 12 aprile, cioè della morte di Gian Roberto Casaleggio. Che si possa essere stati critici o meno delle sue posizioni politiche e della sua ideologia è una cosa, però ciò nonostante rimane il fatto che è morto molto giovane, ha i suoi 61 anni e questo ci lascia tutti costernati e poi che ha avuto di sicuro il suo ruolo e il suo spazio nello scenario politico. Quindi viene a mancare un importante interlocutore. Sentiremo la mancanza di quella nuova voce politica che ha cambiato il modo di fare propaganda attraverso internet in Italia, che è stato un precursore della propaganda in internet e del suo pensiero alternativo. Quindi purtroppo ecco al giorno d'oggi che l'aspettativa di vita si presume allungata, lui è dovuto morire a 61 anni. Ho fatto un video ieri e l'ho caricato in YouTube e niente. Adesso l'incognita è che sarà del Movimento 5 Stelle? Beppe Grillo è entrato nella politica ed è uscito di nuovo dalla politica entrando nello spettacolo come politico. Rientrerà nella politica stavolta come comico o come politico? Chi rimarrà alla conduzione del Movimento 5 Stelle? Ci sarà una forza centripeda ad unificare tutte le varie tendenze o una forza centrifuga lo sfascerà del tutto? Perché ci sono già varie anime dissidenti all'interno del Movimento 5 Stelle. Quindi succederà come con la democrazia cristiana che si sfascerà a pezzi, esploderà in tante schegge, imploderà, oppure si riunificherà, questa morte servirà, questo sacrificio simbolico a riunificare tutte le parti, tutte le anime del Movimento 5 Stelle? Oppure si dissiperanno queste parti del Movimento 5 Stelle nei partiti che già esistono ed in altri nuovi? Questo non lo sapremo se non ha futuro. Chi vivrà vedrà. Comunque questo è certo. Senza Casaleggio, senza Gianroberto Casaleggio, morto prematuramente e senza Beppe Grillo? Quali saranno i nuovi orientamenti? vi lascio con questa interrogazione e vi saluto. Dicevo, questa è la mia breve riflessione del giorno. Non lasciate di seguirmi, io sono il vostro San Ten Chan, sono presente in Facebook, YouTube, Spreaker, Instagram, Dailymotion, Vimeo e... vine naturalmente. Quindi al prossimo radioprogramma e da presto, ciao!